Salve a tutti ragazzi, oggi nuovo video e nuovo volo con il Mavic Air, destinazione isola dei cipressi. Su quest'isola dei cipressi vivono canguri, scoiattoli, gru e tantissimi altri tipi di animali. Speriamo di riuscire a beccarne qualcuno. Poi vi lascio il link del sito dell'isola in descrizione così vi fate un'idea di che figata di isola stiamo per andare a vedere. Quindi destinazione isola dei cipressi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.